Musica Si è svolta nella sala consigliare Pasquale Cappuccio del Comune di Ottaviano la conferenza stampa di presentazione di Aspettando Gourmet, la prima fiera del gusto a cura dell'associazione di volontariato Oltre il Meglio, che dedica quattro giorni alle eccellenze no gastronomiche della nostra terra. Un grande evento senza precedenti con il patrocino della regione Campania e di Pizza Progress per degustare e conoscere i prodotti alimentari di prestigio, una vera e propria vetrina del mangiar bene che vede protagonista le eccellenze alimentari del nostro territorio. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, moderato dalla giornalista Rosaria Morra, presenti la direttrice dell'associazione Oltre il Meglio, Anna Di Porzio, e rappresentanti del Comune di Ottaviano, che ha patrocinato l'evento, il sindaco Luca Capasso e l'assessore Aniello Saviano, che hanno accolto in maniera positiva l'iniziativa ed hanno subito sposato il progetto dell'associazione, che si propone di portare in piazza tanta gente per degustare le specialità e i prodotti di piccole e grandi aziende alimentari, che si confronteranno in questa quattro giorni di degustazione. Alla conferenza presenti anche i fiduciari dell'associazione che ha patrocinato l'evento, il direttore artistico Enzo Di Di Maro e il main sponsor del pastificio Falco. Tra i protagonisti dell'evento, da Di Max, dai re della griglia, venerando Valastro, che delizierà i presenti facendo conoscere le potenzialità del barbecue, con varie pretanze alla griglia e anche con i dolci, grazie alla partecipazione di Antonio Crispino da Real Time. Tante le attività di contorno con gli spettacoli live di Teresa Rocco e Massimo Masiello, accompagnati da un maestro al piano, le esibizioni delle scuole di ballo del territorio e spettacoli di malgia del direttore artistico Enzo Di Di Maro e tante altre cose. Tra le attività, laboratori per le scolaresche e per i diversamente abili. Appuntamento allora da non perdere a Ottaviano, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, in piazza Giovanni Paolo II, dalle 18 alle 23, nel villaggio enogastronomico, chi ama ma già bene, sano a chilometro zero, si incontra a tavola. Al termine della conferenza stampa Gourmit, qui a Ottaviano, sindaco, un altro evento importante per la città nella fine di marzo? Non soltanto per la città, ma credo che per l'intera campagna, un evento importantissimo che rilancia sempre di più, perché dobbiamo rilanciare con insistenza i nostri prodotti, i prodotti locali, attraverso la gastronomia, perché come abbiamo detto anche precedentemente in conferenza stampa, non è la campagna di terra dei fuchi, ma è una campagna che ha prodotti di eccellenza e di qualità, che vanno su tutto il mercato internazionale. Dobbiamo essere soltanto più bravi a sponsorizzare questi prodotti, che a volte sono delle eccellenze, ma non le mostriamo come tale. Invece ci invidiano tante cose della campagna, tante cose dell'area vesuviana. Stiamo lavorando, ci vuole tempo, il lavoro è duro, ma siamo certi che comunque per le prossime generazioni lasciamo una grande eredità. Un evento che fa da crocevia poi alla festa padronale qui a Ottaviano che si avvicina, quindi è un'apertura verso una nuova festa. Sì, io ci tengo a dire che tutte queste manifestazioni, che possono essere considerate manifestazioni ludiche, girano intorno a queste manifestazioni, in un'economia che comunque è fenomenale, nel senso che c'è il respiro per le attività commerciali, c'è il respiro per tutti i produttori, c'è il respiro per tanta gente che comunque, anche se vive in momenti di divertimento, c'è un'economia che gira. E questo è importante. Grazie, signor. Prego. Grazie a voi. Assessore Anilo Staviano, uno dei promotori di Gourmit a Ottaviano, un evento importantissimo. È un evento importante, è vero. Io l'ho seguito da subito, da subito ho dato tutta la mia disponibilità agli organizzatori per far sì che si realizzasse questa manifestazione, che ritengo sia molto importante anche per l'economia del territorio, perché è una manifestazione dove ci saranno tantissime persone, ci saranno tanti espositori anche della nostra zona e quindi sarà importante anche per loro, anche dal punto di vista economico. Poi è una manifestazione importante, dicevo, perché dura quattro giorni, quindi non è una piccola manifestazione. Noi ci aspettiamo tantissime persone che verranno a farci visita. Lo dicevo, questa viene poco prima della festa patronale del Comodio Ottaviano, che ci sarà i giorni 7, 8, 9, 10 e 11 maggio. Noi ci auguriamo che ci siano tante persone in questa manifestazione, come siamo certi che poi arriveranno anche per la nostra festa patronale. È una manifestazione che avrà come tema principale l'enogastronomia. L'enogastronomia dove sarà possibile visitare gli stand e anche fare degustazioni. E poi oltre all'enogastronomia ci saranno tutta una serie di spettacoli collaterali, di musica, di gabarè, di danza e via dicendo. È una manifestazione, io sono certo, i soliti bilanci si fanno alla fine, io mi sbilancio, sono certo che questa manifestazione avrà successo e che noi sicuramente stabiliremo un'altra data per la prossima edizione. Grazie mille. Prego. Con Rosario Amore al termine della conferenza stampa di presentazione di Gourmet. Dal 26 marzo al 29 marzo ad Ottaviano le eccellenze protagoniste. Sì, vi aspettiamo appunto da giovedì a domenica, in piazza Giovanni Paolo II ad Ottaviano, dalle 18 al 23 il villaggio di questo Salone del Gusto che promuove le eccellenze del territorio, le eccellenze enogastronomiche, prevalentemente della dieta mediterranea, per coinvolgere tutti quanti appunto i gourmet, chi è intenditore, chi ama mangiare bene, si incontra a tavola, si incontra a tavola e deve, deve, assolutamente deve, dobbiamo tutti quanti imparare a mangiare bene, sano e perché no anche a chilometro zero. Oltre a mangiare bene, tante attività collaterali in queste serate? Sì, Gourmet è un salone che si apre anche con attività di spettacolo, ci saranno i live di Teresa Rocco e di Massimo Masiello accompagnato da un maestro al piano, ci saranno le esibizioni delle scuole di ballo del territorio, ci sarà uno spettacolo di magia del nostro direttore artistico che è un mago, appunto Enzo Di Maro, ci sarà lo spettacolo del mago delle bolle, ci saranno tante cose sul palco di Aspettando Gourmet ad Ottaviano e poi per i ragazzi per le scolaresche un laboratorio sabato mattina e per i ragazzi diversamente abili invece un momento di svago, di ricreazione domenica mattina. Tra le chicche abbiamo sentito che ci sarà una cosa particolare, la pasta alla griglia con il re della griglia. Sì, abbiamo la partecipazione di Venerando Balastro direttamente dalla TV il re della griglia che ci farà conoscere tutte le potenzialità del barbecue. Il barbecue non è solamente una moda americana che importiamo ma è anche un modo di intendere la cucina, un modo di coinvolgere, un modo di stare insieme, convivialità. non solo però ciò che solitamente si può immaginare da preparare sulla griglia, non solo carne ma anche pasta ma anche dolci attraverso la partecipazione di Antonio Crispino, anche lui guest star televisiva. Non vi diamo più anticipazioni, vi aspettiamo dal 26 al 29 ad Ottaviano. Vi aspettiamo ad Aspettando Gourmet dal 26 al 29 marzo, non mancate. Grazie. Grazie a te. Con Anna Di Porzio per la prima manifestazione, il primo gourmet, il primo esperimento. Praticamente abbiamo pensato di fare questa cosa, non solo qui, cominciamo con questo, poi con Serino, perché questa è aspettando Gourmet. Il Gourmet al 360 gradi ci sarà ad Agerola, perché abbiamo un confluissi di persone, oltre alle persone di portare le eccellenze, avremo coloro che lavorano nelle fabbriche, non so, gli scatolini, le etichette, tutto per rendere il nostro territorio migliore, per far lavorare più persone, e per dare spazio alle nostre eccellenze, che ce ne abbiamo tante, ma tante, che in altri, tanti altri posti non ce l'hanno come noi. Poi abbiamo creatività, noi della Campania, abbiamo spirito di sacrificio, ci sappiamo adattare, però dobbiamo avere più personalità, perché noi possiamo avere più degli altri, e lo dobbiamo fare. E in seguito a questi incontri che faremo, sarà per valorizzarci, noi e gli altri, confrontarci, e rendere la Campania, di nuovo Félix, di nuovo paese bellissimo, dove tutti quanti fanno riferimento, e non sta famosa dare dei fuori, che vogliamo dimenticare, assolutamente. Iniziando da Ottaviano, aspettando Gourmet, appuntamento dal 26 al 29 marzo, ad Ottaviano. Sì, ad Ottaviano, e speriamo di un grande affollamento, perché abbiamo bisogno di confrontarci. Grazie mille. Figurati, ciao. Venendo Valastro, dai Re della Griglia, ad Ottaviano, per Gourmet. Sì, ho scelto di presenziare in questa manifestazione, perché è una manifestazione, dove si farà cultura del cibo, cultura della cucina, e dello stare insieme. Quale elemento migliore che il barbecue? È una cucina antica, riportata ai giorni nostri, con i nostri prodotti del nostro territorio, e quindi nulla, vi aspetto tutti quanti, aspettando Gourmet, ne vedremo delle belle. Il barbecue esaltando i territori locali. Il barbecue come fulcro per esaltare i nostri prodotti, che sono eccellenze d'Italia, forse anche d'Europa. Vi aspettiamo ad Ottaviano. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.